Una vera e propria regola del silenzio, così la CNA definisce il provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale della città per regolamentare le emissioni acustiche nell'area più nota della movida cittadina. Un provvedimento che pur tentando di conciliare la convivenza tra attività produttive legate soprattutto alla ristorazione e alla somministrazione di bevande con i diritti dei residenti, finisce e sostiene la CNA per sbilanciarsi proprio dalla parte di questi ultimi. Tanto noi abbiamo visto il piano all'indomani della sua approvazione, quindi già dal punto di vista procedurale abbiamo ritenuto che non sia stato granché corretto l'atteggiamento rispetto a un problema che è annoso, un problema che ormai si trascina da diversi anni e che ha visto sostanzialmente l'assenza delle associazioni di categoria che hanno rincorso la problematica e non hanno avuto modo di incidere su questo importante documento e il piano di risanamento acustico di una parte importante della città, la parte che interessa la movida e noi riteniamo che i fenomeni di movida sono presenti in tantissime città italiane e contribuiscono con il loro movimento, con le loro attività anche allo sviluppo del turismo e dell'attrazione delle città. Naturalmente riteniamo che le problematiche connesse a questi fenomeni come avviene anche nelle altre città vadano risolti e regolamentati. Auspichiamo che all'indomani dell'assunzione di questo piano di risanamento acustico nella determinazione dei regolamenti si abbia un atteggiamento diverso nei confronti delle associazioni di categoria che rappresentano le attività presenti su quel territorio in particolare ma sull'intero territorio urbano e che hanno il sacrosanto diritto di essere ascoltate per contribuire in qualche maniera a risolvere i problemi nell'interesse delle imprese che rappresentano.